E' stato definito un traditore. Luciano Monticelli fa parte dei quattro rappresentanti di maggioranza che hanno votato contro il proprio capo di governo, Luciano D'Alfonso. Dopo le critiche, le tensioni e i malumori, oggi il consigliere regionale mantiene il suo punto e non si sposta di un passo. Il voto della risoluzione in consiglio impegna il presidente. Poi se il presidente o l'assessore non lo vuole fare, dobbiamo trovare altre strade. Io so che molti sindaci stanno facendo opposizione con ricorsi al TAR su questo. Ci troveremo la strada. Io mi impegnerò affinché questo, ma io non ho la possibilità fisica di fare e di tenere aperte. C'è bisogno di fare un percorso che mi auguro che il presidente della Giunta, l'assessore, ma soprattutto Roma, il MEF, perché tutto questo viene deciso dal MEF ed è vero perché potrebbe essere subito commissariata, potrebbero venire altri commissari. Questo è vero, bisogna dirlo, ma non basta una risoluzione, bisogna continuare a stare sul pezzo. Dall'altra parte però la sua firma compare proprio su quel foglio che sottoscrive la volontà dell'Aggiunta regionale di portare avanti il piano di rientro economico per uscire dal tanto annoverato commissariamento. Una contraddizione, secondo l'opposizione, che in qualche modo concede il nulla osta alla chiusura dei punti nascita, quelli per i quali l'ex sindaco di Pineto aveva tanto combattuto. Secondo Monticelli si tratta di due argomenti distinti. La lotta per bloccare la chiusura verrà portata avanti senza indugi. Noi abbiamo votato una risoluzione, non si può modificare. Il documento che qualcuno vuol far passare in maniera strumentale, e io credo che sia anche indegno questo della buona politica, non fa altro che dire che comunque noi ci teniamo ad uscire fuori dal commissariamento, a mal di là della questione dei punti nascita. Grazie. Grazie.